Proseguiranno per giorni i lavori di rimozione della pavimentazione in legno del prato sintetico sul solettone di Piazza Colombo a Sanremo. Probabilmente saranno rimosse anche le fioriere, i giochi, i panchine e i cavi elettrici. È probabile che verrà risistemata la pavimentazione originale, ma ci sono altri progetti di riqualificazione in programma. La zona deve tornare ad essere di nuovo fruibile. L'intervento di smantellamento si è reso necessario dopo il ferimento di un bambino mentre con la madre si trovava sul tappeto verde a giocare. Si sarebbe fatto male con uno spuntone emerso dalla copertura. La prognosi per il piccolo è di otto giorni. L'area nata come arredo urbano nel tardi pomeriggio di ieri così è stata resa off limits per evitare l'accesso dopo appunto il ferimento del bambino. Poi a seguito delle verifiche degli agenti della Polizia Municipale è emerso che molte viti emergevano in modo vistoso dal tappeto erboso e la pavimentazione in legno risultava danneggiata dagli eventi atmosferici. Non si fermano ora le polemiche in relazione alla pavimentazione voluta dalla precedente amministrazione anche se secondo i progetti della stessa la costruzione doveva durare pochi mesi. Già lo scorso anno il dirigente del settore giardini Claudio Litardi aveva segnalato alcuni problemi e chiesto interventi specifici poiché il carico di usura risultava notevole tra bancarelle e mercati che spesso hanno animato la piazza e l'utilizzo continuo avvenuto da parte dei tanti bambini. Al momento ci sono progetti per una nuova struttura visto che comunque è molto utilizzata da genitori e bambini. Uno riguarda anche l'installazione di un'area giochi.